mi pare di capire Esatto, facciamo il pupo e il secchione per percitare programmi Posso dire che sei un ingegnere? No, ma non interessa a nessuno Poi fa scappare le ragazze questa cosa, non va bene No, economia aziendale, inoltre tutto testimonio al famosissimo in tutto il mondo No, però scherzi a parte no, raccontaci com'è studiare, è bene oltretutto Ma vabbè, in squadra non sono l'unico che studia e gioca però sicuramente è impegnativo perché sicuramente con uno sport come la pallannuoto dove ti alleni tutti i giorni, doppi, allenamenti, palestra diventa impegnativo diciamo incastrare un po' tutto e quindi seguire le lezioni, andare in piscina eccetera Però si può fare Spia molto tempo Però stiamo dicendo che ecco si può fare Lo si può fare, diciamo che sono fortunato anche ad abitare comunque vicino alla piscina E quindi all'università La facoltà è molto vicina alla piscina quindi Perché non conosce il sottorino Sono facile diciamo a fare tutto ecco Però testimonial di grandissimo livello con Giorgio Chiellini Non so quanti possano dire di avere la metà delle visualizzazioni di Giorgio Chiellini Perché così è in quei video? Sì ho fatto quello spot perché il direttore del dipartimento aveva chiesto appunto a un paio di studenti Che facevano appunto sport agonistici E che appunto studiavano in economia aziendale Di fare sponsorizzare la laura telematica E quindi Chiellini era diciamo il testimone Ma eravate lì lo stesso giorno? No Quindi non ci puoi dare il numero L'ho registrato prima C'è Natale però cercatelo Andrea Maffè su YouTube C'è questo video splendido C'è anche il numero di Maffo Quindi tutti i contatti Adesso non provare a sviare Ormai le voci sono quelle Gianluca mi spiace Però voi siete in Serie 1 Vi siete salvati la scorsa stagione E possiamo dirlo un po' del merito va anche a noi di The Locker Room Perché prima dei play out siamo venuti ad allenarvi come si deve In piscina a fare una partita con voi Quindi direi ci fermiamo per la prima volta In questa Ma non abbiamo un pubblico Siamo registrati Ah il pubblico chiede Andrea come fa Maffè ad avere un petto così gigante Cioè è tutto vero Nero su bianco È una leggenda Non è vero Smentiamo tutto Vedremo Vedremo dopo And I'm your dream inside of The one you always Grazie a tutti